Bentornati al nostro appuntamento su Rete8. Si è parlato tanto della manovra di due interventi importanti, la quota 100 e il reddito di cittadinanza. Nella manovra ci sono altri interventi altrettanto interessanti di cui parleremo nelle prossime puntate. Il primo di cui vogliamo parlarvi è quello del riscatto laurea agevolato. Spesso appunto il riscatto laurea viene richiesto ad importi che essendo collegati alla retribuzione attuale sono molto elevati. Nella attuale possibilità invece c'è una forma agevolata di riscatto laurea. È limitata sia nella durata come vedremo ma anche ai soggetti che hanno periodi di corso legale a partire dal 1996, nonché non devono avere contributi prima del 31-12-1995 e avere almeno un contributo pensionistico prima della data della domanda. Questi sono i requisiti relativi al riscatto laurea agevolato. Che cosa invece possiamo riscattare? Vediamo la prossima slide. Possiamo riscattare diplomi diversitari, diplomi di laurea, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, sia la triennale che la specialistica. Sono esclusi però, e questo è importante, gli anni fuori corso. Quindi posso riscattare esclusivamente la durata legale del corso di studi. Come dicevo, oltre alle limitazioni relative al periodo che posso riscattare, c'è un termine dopo il quale non posso esercitare il riscatto. Cioè la domanda per l'esercizio della facoltà può essere presentata fino al 31 dicembre 2021. Non c'è da affrettarsi appunto, ma non è un sistema di riscatto laurea che va a sistema complessivo. I periodi saranno valutati ovviamente secondo il sistema contributivo. Vediamo quanto costa, perché la cosa più importante per i cittadini è anche sapere il costo. L'agevolazione appunto nella determinazione di un costo fisso. Sono 5.241,30 euro per ogni anno riscattato. Ricordo che il riscatto può essere fatto per anni interi, ma anche per settimane. Non è obbligatorio riscattare tutto il periodo. Come può essere fatto il pagamento di questa somma? Può essere fatta in unica soluzione, oppure fino a un massimo di 60 rate mensili, che non devono però essere inferiore a 30 euro mese. Senza applicazione di interessi di rateizzazione. Quindi anche se si opta per il pagamento in 60 rate, non saranno caricati interessi di rateizzazione. L'altra novità importante rispetto al riscatto aurea è la detraibilità fiscale. Il costo sostenuto è detraibile nella misura del 50%, quindi circa 2.600 euro saranno detraibili per i 4 anni successivi a quelli del versamento. Quindi abbiamo la possibilità di detrarre una somma importante e quindi ridurre il costo complessivo grazie alla riduzione delle tasse che andiamo a pagare. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata.